Ok ragazzi, nuovo video, oggi vi parlerò del mio stack di integratori, ovviamente sono in tenuta Yamamoto è da tantissimo che mi chiedete, ma da anni, che mi chiedete esattamente il mio protocollo di integrazione e tutto il resto e questa partnership con la Yamamoto è stata sicuramente un'ottima occasione per farlo prima di iniziare però voglio fare due importanti premesse la prima premessa è che noi abbiamo ricevuto nel corso degli anni presenti offerte di collaborazione con tutte le industrie di integrazione del settore o bene o male molte delle industrie di integrazione del settore, abbiamo sempre rifiutato perché abbiamo sempre detto noi non siamo dei venditori, quindi se una qualsiasi collaborazione ci porta a fare dei contenuti di qualità quindi quella che è la mission di Rhino Coaching e tutto il progetto Rhino in generale allora ben venga, però se si tratta semplicemente di vendere prodotti che poi alla fine non utilizziamo allora sicuramente questo ci ha portato a rifiutare sostanzialmente tutte le collaborazioni e l'avete visto perché non ci siamo mai esposti da questo punto di vista con la Yamamoto questo non è stato, semplicemente per il fatto che sono prodotti che realmente utilizziamo quindi quello che ci limitiamo a fare è dare il nostro punto di vista su quello che utilizziamo dare consigli e per tutti quelli che ci hanno fatto domande su Instagram, su Direct, per mail e tutto il resto sapete che siamo super trasparenti quindi siamo primi a sconsigliare anche ai nostri atleti di utilizzare alcuni prodotti se non li riteniamo fondamentali, importanti o da inserire sapete il nostro punto di vista sull'integrazione quindi ci deve essere un'integrazione di base per colmare delle lacune, delle carenze dal punto di vista alimentare ma poi per il resto l'integrazione è un'integrazione specifica di fronte a una necessità specifica quindi è inutile andare a inserire migliaia e migliaia di integratori soltanto perché un influencer vi ha detto che va fatto ok? Quindi questo rimane scolpito nella pietra va bene secondo punto ora come ho detto in un video tempo fa sul mio bulk in questo anno quello che era il mio scopo era quello di inserire un sacco di finezze quindi veramente cercare di curare in maniera meravigliare qualsiasi cosa per cercare di ottenere il massimo dei risultati e rendermi poi conto di quello che veramente su di me è effetto e importa è quello che è tendenzialmente superfluo quindi questo ha visto in quest'anno una mia importanza data alla cura del sonno vi ho parlato spesso e volentieri poi su YouTube, su Rino Nation eccetera che è stato veramente un game changer per me ha visto anche dei video fatti su delle rilevazioni col glucometro quindi un controllo della glicemia costante e la modulazione del piano alimentare sulla base dei risultati della glicemia per quanto possa essere affidabile un glucometro quindi un sacco di finezze e un sacco di cose quindi logicamente tutto quello che dirò per quanto riguarda il mio piano di integrazione ragazzi non voglio che passi il messaggio ah ok quindi bisogna fare questo, bisogna prendere tutte queste cose eccetera eccetera no, sono cose che io sto prendendo pian piano mi renderò conto delle cose che sono veramente utili le cose che invece hanno un effetto placebo oppure non hanno un'utilità che valga il costo sia fisico che logicamente, odio, sia mentale che logicamente economico di quello che è assumere un integratore quindi semplicemente vi riporto la mia esperienza e sto sperimentando diversi integratori che alcuni sono stati veramente una sorpresa sono super contento e probabilmente li inserirò sul lungo termine altri semplicemente vediamo come va però intanto vi condivido quello che è il mio protocollo ora iniziamocelo tutti qua iniziamo con lui fantastico amore mio l'Energan intra workout ora io ho sempre parlato dell'importanza dell'intra workout l'Energan è un prodotto da questo punto di vista fantastico ben formulato c'ha un sacco di molecole e ho fatto una recensione in merito quindi non voglio soffermarmici come lo utilizzo l'Energan visto che ha una quantità di ciclo di estrine tendenzialmente bassa rispetto a quelle che assumo io c'ha 20 grammi per serving utilizzo altri 20 grammi di ciclo di estrine in aggiunta c'è un blend di un pool di amminoacidi ci aggiungo 5 grammi di creatina questo è come lo sto usando adesso mi ci trovo veramente veramente bene ti da quello sprint in più per superare sessioni di allenamento che sono tassanti sia dal punto di vista fisico che in orale come le mie arrivo ad allenarmi anche due ore tra warm up, cool down, questo e quest'altro quindi un blend di carboidrati, amminoacidi eccetera è veramente utile da questo punto di vista quindi Energan mi ci sto trovando veramente veramente bene devo paragonarlo e devo cercare di fare il punto della situazione tra questo e Glyco Ball Performance perché molti mi stanno chiedendo però sono entrambi prodotti molto molto validi mi sono trovato bene con entrambi però adesso, lo so, sarà il packaging così accattivante però con questo dragone alla flex mi sta piacendo veramente veramente tanto quindi andato Energan super contento ora, sempre parlando della Peri Workout Nutrition Shurakan questa è la vecchia formula io utilizzo in realtà la nuova c'è stato un disguido nell'ordine sono super sincero perché mi sono scordato di scrivere nuova formula però è altrettanto valida logicamente è il pre-workout che io in assoluto con cui mi sono trovato veramente veramente meglio e non ha caffeina quindi io personalmente in questo momento ne sto aggiungendo a parte però in fase di preparazione sapete che faccio uno scarico di caffeina quindi questo sarà veramente una manna dal cielo perché mi aiuterà ad affrontare sessioni senza avere quella botta alle surreni che è il caso di evitare quindi seguo il serving 30 minuti prima dell'allenamento ho fatto un video in merito quindi vi rimando al video per sapere tutti i dettagli però è veramente favoloso e di nuovo non contenendo caffeina ne potete aggiungere a parte oppure potete tenerlo anche quando prevedete degli scarichi e fidatevi che in fase di preparazione vi conviene scaricarla poi su questo magari torneremo in un altro video anzi scrivite uno qua sotto se vi interessa l'argomento poi parliamo dell'insuluminare insuluminare è un GDA è il più potente il più completo della Yamamoto e probabilmente anche di quelli in circolazione GDA sostanzialmente è un glucose disposal agent quindi una serie di molecole di integratori che agiscono su due fronti un miglior partizionamento dei nutrienti quindi favoriscono l'emissione e il veicolare i carboidrati all'interno del tessuto muscolare a scapito di quello adiposo intervenendo sulla produzione di GLUT4 via discorrendo e migliora in generale la sensibilità insulinica lo sto usando e lo continuerò a usare soltanto per questa fase di bulk quando sarò in CAT la sensibilità insulinica sarà ottimale verosimilmente quindi personalmente non lo utilizzerò a meno che non mi renderò conto che valga la pena inserirlo ma magari ci tornerò successivamente in questo momento non mi vengono in mente motivi specifici per tenerlo anche in fase di CAT quindi per ora lo sto utilizzando in questa fase di bulk sono salito molto bene l'ABF non è arrivata ai livelli dell'anno scorso nonostante abbia messo qualche chilo in più quindi sono molto molto contento sono arrivato a più o meno quella che è la quota che qui arrivo alla fine delle fasi di bulk normalmente ossia 700 grammi di carbo un 60 50-60 grammi di grassi e 250 grammi di proteine per un peso di 95 kg alla fine del bulk quindi veramente veramente utile l'ho utilizzato dopo il pranzo ho iniziato con il Clost My Metic poi sono passato a questo perché è una formulazione che preferisco ho iniziato l'ho utilizzato pardon due capsule dopo il pranzo due capsule dopo la cena che sono i due pasti glucidici che non sono dopo l'allenamento perché il grosso del pasto glucidico è la colazione che è post-workout ma là i glut 4 stanno là affamati che non vedo l'ora che gli dai qualcosa quindi non ne vale realmente la pena ah interrompo un attimo per una piccola parentesi abbiamo logicamente un codice sconto Rhino 5 che è un codice influencer che è particolarmente favorevole perché può essere aggiunto qualsiasi altro codice sconto per delle promozioni Yamamoto eccetera quindi è un codice aggiuntivo che vi dà uno sconto percentuale del 5% oltre a quello che eventualmente avrete del 20% per una promozione Yamamoto che potete inserire nel vostro carrello quindi nel caso che vi interessi Rhino 5 molto semplice di intuitivo ok andiamo avanti qua c'è veramente un imbarazzo della scelta curcuma la sto utilizzando la curcuma per via del suo effetto antinfiammatorio e è uno dei insieme agli Omega 3 è uno dei più importanti integratori che hanno questo effetto antinfiammatorio perché l'infiammazione acuta derivante ne ho già parlato l'infiammazione acuta derivante dall'allenamento ok ci piace perché va a stimolare tutta una reazione del nostro corpo in termini di adattamento ipertrofico quello che voglio evitare per via delle botte che vado a dare al corpo e ovviamente l'aumentare tanto le calorie e il carico di stress ossidativo che vado a dare per l'allenamento è quello che ci sia una cronicizzazione dell'infiammazione sostanzialmente quella che viene identificata come infiammazione subclinica la curcuma è un ottimo antinfiammatorio da questo punto di vista quindi sostanzialmente è l'assumo in ottica di miglioramento di quelle che sono le mie recovery capabilities quindi le capacità di recupero in seguito all'allenamento e io devo dire che con tutte queste finezze alcune più determinanti altre meno i miei messo cicli di lavoro sono molto più intensi e durano molto di più nel senso che continuo a battere il log a battere la performance per molto più tempo rispetto a quanto facevo per esempio l'anno scorso quindi c'è stato un forte miglioramento di performance da questo punto di vista e un forte miglioramento delle mie capacità di recupero quindi da questo punto di vista curcuma ottimo integratore poi allora fondamentale perché ho detto sono arrivato a 700 grammi di carbo quindi comunque una molle di non solo calorica ma anche di cibo non indifferente quindi nell'ultima fase per aiutarmi a assimilare e mangiare tutto l'insuluminare è stato determinante ma è stato altrettanto determinante questo fantastico impiegatore ossia l'enzymasic un blend di enzimi digestivi quindi sostanzialmente dovete capire una cosa il bodybuilding è una forzatura che noi facciamo al nostro corpo quindi arrivare a avere delle richieste di performance così alte delle richieste energetiche così altre soprattutto per il fatto che rispetto ad altri sport noi dobbiamo lavorare il surplus calorico più o meno accentuato comporta che comunque il sistema gastrointestinale non potrebbe stare al passo questo è logico va benissimo ragazzi nel senso che magari abbiamo una capacità di esprimere performance ottimale ma una capacità di gestione e comunque una capacità del nostro sistema gastrointestinale che non riesce a stare al passo a questa richiesta energetica di molle di ciclo quindi da questo punto di vista l'enzima ASIC è un'ottima aggiunta ai nostri pasti per migliorare l'assimilazione in generale dei nutrienti di quel che mangiamo quindi ottimizzare tutto quanto perché prima di tutto ragazzi e ho fatto anche un video sulla digestione prima di stilare qualsiasi protocollo alimentare per voi e da seguire nel corso di un periodo di programmare qualsiasi cosa a livello alimentare chiedetemi digerisco bene? Sì? No? Digerisco no? Non digerisco bene? Ok perfetto come risolvo questo problema prima di iniziare con il mio protocollo digerisco bene? Sì? Ok che piano ho per mantenere questa buona digestione? Ecco questo è un ottimo piano per mantenerla sul lungo periodo quindi ottimo da questo punto di vista allora ho già fatto una recensione su di lui quindi potete andarvela a vedere se è già uscita perché l'ho registrato esattamente 30 secondi prima di questo video il Rejective che mi aiuta a dormire come un membo è veramente veramente fantastico da questo punto di vista il sonno è molto più profondo probabilmente però è qualcosa di tutto empirica probabilmente c'è una maggior componente di sonno non REM rispetto al sonno REM i problemi sono importanti bla 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 però mi trovo veramente veramente bene dormo meglio e soprattutto mi sveglio che sono molto più riposato anche magari con 7 ore di sonno tra parentesi vado a recuperarle nel pomeriggio sonno bifasico come Homo Sapiens abbiamo questo tipo di sonno quindi per chi può sfruttatela ma ho già fatto un video sul sonno ecco questo prodotto devo dire che tra tutti quanti è quello che in assoluto mi ha stupito di più quindi grazie Gabriele da questo punto di vista ovviamente lo inserirò sempre costantemente perché il sonno è sempre importante magari farò dei piccoli periodi di scarico quando starò più libero potrò dedicare anche più ore di sonno in generale e di riposo non lo utilizzo tra sabato e la domenica perché la domenica posso svegliarmi tardi quindi da questo punto di vista è fantastico lo utilizzerò soprattutto sotto preparazione perché tra poco ci inizia si inizia con la preparazione per il mondiale PCA quindi questo amichetto mi potrà salvare dall'insonnia derivante dal CAT e dai warts di fame allora sempre parlando di integrazione per il CAT tra poco li inizierò quindi vi darò dei feedback da questo punto di vista ma li ho già utilizzati a parte non in sinergia e devo dire che sono ottimi per il CAT non li preferisco in generale questi due ashwagandha e dimenzin che contiene same allora il same è sostanzialmente la metionina allora sono sostanzialmente se vogliamo l'ashwagandha è un adattogeno ok il same possiamo vederlo pure da questo punto di vista come un adattogeno ma ci farò una video recensione in merito in cui vi spiegherò tutto quanto sostanzialmente la funzione di questi due è di farmi stare tranquillo da un punto di vista di testa quando sto in CAT in generale i feedback che vi posso dare di entrambi è più relax in generale nella tua giornata quindi sto un po' più tranquillo perché di nuovo l'ho provato nello scorso CAT e si fanno più pensieri positivi così si può dire e devo dire il sonno anche è migliore anche se adesso ho il regexing che mi aiuta da questo punto di vista quindi in generale il discorso è quello di cercare di abbassare il più possibile il cortisolo o in generale lo stress che logicamente va ad inficiare non soltanto sulle mie capacità di recupero che stanno già messe a dura prova per via del CAT quindi della poca mole calorica ma vanno a inficiare anche sulla compartimentalizzazione dell'acqua e logicamente su quella che è la mia composizione corporea quindi in questo CAT inserirò entrambi e conto mi daranno un'ottima mano vi terrò aggiornati farò delle recensioni su entrambi anzi se scrivetemi qua sotto di quale volete la recensione di più tra il Vimezin e la Spaganda non so vediamo un pochetto così do priorità all'uno piuttosto che all'altro in base ai vostri commenti però farò delle recensioni che finiranno sui canali di Yamamoto come le altre che avete visto quindi questo per quanto riguarda il mio stack a parte sempre di default come ho sempre detto omega 3 e multivitaminico questi sono un po' degli spunti ragazzi scrivete qua sotto tutte le domande che volete lo ripeto perché non voglio avessi apprendito da questo punto di vista non è estremamente necessario prendere tutto questo potete anche bere soltanto acqua e diventerete grossi e tirati quindi queste sono soltanto delle aggiunte delle finezze che possono essere più o meno determinanti in base a voi a quello che è il vostro stile di vita quelli che sono i vostri impegni il vostro modo di allenarvi però tra parentesi se non vi allenate in un certo modo allora questa roba potete pure buttarla è qualcosa che viene dopo quindi in primi scurate l'allenamento l'alimentazione e infine l'integrazione e infine Grazie a tutti.